Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. È domenica 18 settembre 2016 e ci troviamo a Ravenna, città d'arte dell'Emilia Romagna, famosa per la sua cultura, con un ricco patrimonio di mosaici che decorano gli edifici del centro storico. Le lancette dell'orologio segnano le 18 in punto. Due uomini, di nome Guido Ballestri e Stefano Bezzi, entrano nel comando di polizia e i loro volti esprimono un'evidente preoccupazione. Sono in questura per denunciare la scomparsa di Giulia Ballestri, sorella di Guido e compagna di Stefano. I contatti tra loro si sono interrotti due giorni prima, il 16 settembre. Da allora Giulia non ha più risposto al telefono. Giulia è madre di tre figli e, nonostante stia insieme a Stefano da circa un anno, è sposata con un altro uomo, Matteo Cagnoni, un noto dermatologo. Giulia è conosciuta a Ravenna proprio grazie a suo marito. Il padre di Matteo, ossia Mario Cagnoni, è l'erede di una famiglia di armatori e un luminare della medicina, ha ritenuto uno dei massimi esponenti della endocrinologia italiana ed è anche docente universitario a Firenze. Guido, il fratello di Giulia, riferisce alle forze dell'ordine che il cellulare della donna risulta spento da ore e che non risponde nessuno neanche al telefono dell'abitazione dei Cognugi Cagnoni, situata in via Giordano Bruno. I Cognugi hanno anche una villa al mare a Marina Romea, ma pure lì non c'è traccia né di Giulia né di suo marito Matteo. Quando viene a sapere di questa scomparsa, il sostituto procuratore di Ravenna chiede più informazioni su Giulia. Apprende dunque che è una donna di 42 anni con tre bambini che avevano appena cominciato la scuola. Questo fatto porta immediatamente a escludere la pista dell'allontanamento volontario. Ma che altro c'è da sapere su questa donna? Giulia Ballestri nasce a Ravenna nel 1980. I suoi familiari sono proprietari di una ditta importante di Ravenna che si occupa di spedizioni navali. Cresce in una famiglia amorevole e trova tanta complicità in suo fratello Guido, con cui condivide delle quote societarie. Entrambi i fratelli iniziano a lavorare nella ditta di famiglia e Giulia ama il suo lavoro. Viene descritta come una donna gentile, sempre sorridente. All'età di 28 anni inizia a soffrire di un problema che le dà molta noia, l'acne. Così prende appuntamento col più famoso dermatologo di Ravenna, Matteo Cagnoni. Quando Giulia si reca nello studio di Matteo non sta passando un periodo felice. Al di là del disturbo alla pelle si sente sola e Matteo intuisce la sua debolezza. Iniziano quindi a parlare in modo più approfondito. Matteo quindi dice a Giulia di essere diverso da tutti gli altri. Lui vede la sua bellezza e apprezza la sua intelligenza. I due dunque si mettono insieme e, vista la buona reputazione della famiglia Cagnoni, i parenti di Giulia non soltanto approvano la loro relazione, ma la incoraggiano. Ed altronde Giulia è davvero affascinata dalla personalità di Matteo. Un uomo serio, sicuro di sé, pacato. Poco tempo dopo Giulia rimane incinta, ma ahimè perde il bambino. Nonostante ciò, nel 2002 la coppia si sposa. Tutti invidiano Matteo e Giulia. Sono belli, ricchi e innamorati. Tuttavia, tra loro c'è un problema. Subito dopo le nozze, Matteo chiede a Giulia di smettere di lavorare nell'azienda di famiglia. Vuole che la moglie resti a casa. Giulia, nonostante ami tantissimo il suo lavoro, sceglie di accontentare il marito. Passa il tempo e in 13 anni di matrimonio vengono alla luce tre figli. Giulia fa la mamma a tempo pieno e gli impegni sono tanti, ma in fondo si pente di aver lasciato il lavoro. Insomma, si sente in trappola, non è soddisfatta della vita che conduce, anche se in pubblico si mostra felice e sorridente accanto a Matteo. La verità è che Giulia continua a stare con il marito perché lei ama follemente i suoi tre figli, ma Matteo ha una visione arcaica della relazione uomo-donna, che è difficile tollerare. Esercita su sua moglie un controllo ossessivo, maniacale. In casa, persino gli argomenti di discussione devono essere filtrati. Ecco perché Giulia ha cominciato a sentirsi come in una prigione. Tuttavia, a giugno 2015 Giulia riesce in qualche modo a trovare la forza di rinascere. Un giorno, quando va a prendere i suoi figli a scuola, incontra Stefano, un suo vecchio compagno di scuola. Anche lui sta aspettando la figlia. I due chiacchierano fino a confidarsi i propri problemi matrimoniali. Stefano spiega a Giulia che ha deciso di separarsi dalla moglie. E la notizia in realtà la fa riflettere. Forse anche lei dovrebbe farsi coraggio e lasciarsi alle spalle un matrimonio sorretto dalle imposizioni e dalle apparenze. Ben presto Matteo si rende conto dell'allontanamento di Giulia. Quando lei, qualche mese dopo, gli esprime la volontà di giungere a una separazione, lui diventa ancora più vigile e ossessivo. Matteo non accetta questa prospettiva che per lui equivale a una sconfitta. Il medico si reputa un uomo vincente. Inoltre non sopporta che la borghesia di Ravenna possa venire a sapere non soltanto della separazione, ma pure che è stata Giulia a volerlo lasciare. Intanto Giulia e Stefano non hanno interrotto i contatti e tra loro nasce una storia che dà nuova forza alla donna. Giulia, paragonando Stefano a suo marito, si rende conto in modo lampante delle differenze tra i due. Matteo è interessato alle apparenze e freddo. Mentre Stefano è spontaneo e dolce. La donna vuole concludere il matrimonio per riprendere in mano la vita che desidera, ma Matteo prova a convincerla che il suo malumore è legato alla depressione, perché si sta avvicinando la menopausa. Così inizia a somministrarle dei farmaci antidepressivi e ipnotici. Giulia si trova costretta ad assumerli contro la propria volontà. Infatti sa che non è competenza di un dermatologo diagnosticare la depressione. Ma ogni sera Matteo la obbliga a stare seduto al tavolo della cucina, le mette lui stesso le pilole in bocca e le ordina di bere. Soltanto se obbedisce, Giulia è finalmente libera di alzarsi dalla sedia. In questo periodo Matteo convince Giulia anche ad andare dallo psicologo. Lei vi si reca mal volentieri, ma dopo qualche seduta lo specialista chiarisce a Matteo che sua moglie ha soltanto bisogno di più libertà. Giulia è soffocata, ha il diritto di uscire e di vedere le sue amiche. Questo basta affinché Matteo stabilisca che quello psicologo va sostituito, svelando un altro asso nella manica, cioè proponendo a Giulia di andare da un altro analista che si occupa di terapia di coppia, cosa che in effetti avviene. Il coinvolgimento dello specialista in psicoterapia di coppia è l'ennesimo tentativo di controllo esercitato da Matteo, che arriva persino a estendersi alle letture prescelte da Giulia. Sua moglie non può di certo leggere i saggi e i romanzi che più la ispirano, piuttosto deve tenersi aggiornata sulla lettura medica e sulle riviste scientifiche per poter sostenere le conversazioni con gli amici del marito. Per la psicoterapia di coppia i coniugi si affidano allo psicologo Maurizio Stupiggia e iniziano le sedute nei primi giorni di dicembre 2015. I due discutono poco o niente, non emergono forti contrasti, ma lo psicologo individua subito un grande squilibrio di potere tra Matteo e Giulia. Parliamo di potere di parola, di giudizio, di decisioni. Giulia infatti viene descritta dal professionista come una donna timorosa di esprimere il proprio parere, in un certo senso trattenuta. Indagando più a fondo lo psicologo comprende che Giulia è stanca della relazione con Matteo. Lei sta cambiando, così come le sue idee e le sue scelte. Da un lato dunque Giulia mostra una profonda insoddisfazione e incertezza. Dall'altro lato, Matteo attribuisce questa insoddisfazione alla depressione della moglie e non al rapporto con lui. Matteo vuole mantenere il controllo e vuole che Giulia stia meglio, ma pretende di conoscere e applicare le modalità per raggiungere questo risultato. Modalità giuste? Soltanto per lui. Le idee di Giulia, le sue opinioni e le sue lamentile non le prende neanche in considerazione. Lo psicologo intravede in Giulia diversi elementi che spingono verso l'emancipazione, alla conquista di più spazio e più potere. Lei vuole uscire dal mondo preorganizzato e imposto da Matteo. La loro relazione si alimenta a causa di una cultura negativa che inquadra la donna come oggetto di repressione e violenza continua. Ma quel tempo Giulia ha cominciato a maturare, un desiderio di libertà e di fuga. Matteo si è reso conto che sua moglie ormai è insofferente alla vita coniugale. Né gli psicologi né i farmaci possono contraddire queste evidenze. Avendo il sentore che Giulia lo stia tradendo, a giugno del 2016 Matteo assume un investigatore privato che piazza un dispositivo GPS sotto la sua automobile. Inoltre Matteo Cagnoni riesce a far clonare la sim di Giulia così da avere accesso a tutte le sue chiamate, le chat, i messaggi vocali, le foto, i video. Nell'agosto del 2016 l'investigatore privato consegna a Matteo Cagnoni le prove ricercate. Giulia si sta frequentando con un altro uomo. Matteo si infuria, accusa Giulia di averlo disonorato e le assicura che le porterà via i figli. Infine l'aggredisce. La violenza che lui ha manifestato spaventa Giulia. Ma Matteo prova a cambiare le carte in tavola, le dice che stava scherzando perché non potrebbe mai farle del male. Lo giura sulla testa dei loro figli. Non l'avrebbe aggredita mai più. Inoltre Matteo Cagnoni ritratta anche sulle considerazioni sul divorzio. Dice a Giulia che, se vuole, possono iniziare a preparare la documentazione necessaria. In cambio, lei non dovrà vedere Stefano fino a quando la separazione non diventerà effettiva. Giulia sa che questa libertà dovrà conquistarsela con le unghie e con i denti. Intuisce che Matteo in realtà non vuole concederle il divorzio. Sta soltanto cercando di guadagnare tempo. Infatti ha premuto affinché lei assumesse il suo stesso avvocato divorzista. Tuttavia la volontà di Giulia è irremovibile. Dopo qualche mese, quando si rende conto che le pratiche del divorzio sono completamente bloccate, si fa forza e pretende da Matteo che quella situazione volga immediatamente al termine. Allora Matteo comincia a muovere altre pedine sulla sua scacchiera del potere. C'è un vitalizio che avrebbe dovuto garantire alla moglie e ai figli minorenni. Ma lui inizia a cedere tutti i suoi beni al fratello come donazioni. Si disfa di una casa e dei fondi dal valore di più di un milione di euro ceduti per soli 160.000 euro. Giulia però non si fa battere. Anzi, questi episodi rafforzano la sua convinzione di concludere il matrimonio il prima possibile. Matteo la sta ricattando. Usa come arma la separazione. Le impone di continuare ad avere rapporti intimi con lui e di comportarsi come una moglie devota. I giorni passano e come detto all'inizio del video, il 18 settembre 2016, viene denunciata la scomparsa di Giulia. Le cui tracce sono disperse da due giorni. L'attività di indagine e di ricerca delle forze dell'ordine parte immediatamente. Il primo passo è contattare il gestore di telefonia di Giulia per cercare di localizzare il suo cellulare. Ma sono ormai 48 ore che non risulta collegato alla rete. Nel frattempo anche le amiche di Giulia e il suo compagno Stefano la cercano per ore e ovunque. La cercano tutti e stranamente l'unica persona che non si è messa alla ricerca di Giulia è proprio suo marito, Matteo Cagnoni, che si è spostato a Firenze con i figli in casa dei propri genitori. Intanto gli inquirenti procedono alla verifica prima presso l'abitazione coniugale in via Giordano Bruno, a Ravenna, poi presso la seconda casa a Marina Romea. Gli inquirenti sono in contatto costante con Stefano, l'uomo che Giulia stava frequentando, con Guido, il fratello di Giulia, e con le persone a lei più vicine. Conducono varie intercettazioni telefoniche che riguardano tutte le persone coinvolte nella vita di Giulia. Così gli investigatori vengono a sapere che gli unici problemi della donna sono legati al matrimonio e dunque al marito, Matteo Cagnoni. Mentre tentano di mettersi in contatto con lui scoprono che, come detto, Matteo si trova a Firenze dal 16 settembre, quindi da due giorni prima della denuncia di scomparsa di Giulia. L'uomo però risulta irreperibile fino a quando non è lui stesso a telefonare al commissariato in presenza del sostituto procuratore. Il commissario chiede a Matteo di tornare a Ravenna perché è necessario parlare con lui di persona. Ma Cagnoni accampa delle scuse, dice che è troppo stanco, che ha fatto un lungo viaggio. A questo punto si rendono fondamentali degli accertamenti anche nella casa dei genitori di Matteo, a Firenze. Il sostituto procuratore si interfaccia con la vicequestore che all'epoca comanda la squadra dei falchi, noti anche come squadra antiscippo, e chiede loro di portarsi verso la casa dei genitori dell'indagato. Bisogna appurare se Matteo e i familiari hanno delle responsabilità nella scomparsa di Giulia e cercare di reperire altre informazioni sulla donna. Intanto Guido, il fratello di Giulia, informa gli inquirenti dell'esistenza di un'altra proprietà della famiglia dei Cagnoni. Una villa disabitata situata nel centro di Ravenna, più precisamente in via Padre Genocchi, nella zona dei giardini pubblici. Giunti sul posto, gli operatori di polizia hanno difficoltà ad accedere all'abitazione, in mancanza delle chiavi per aprire i cancelli e la porta d'ingresso. Gli movimenti degli agenti vengono notati da un vigilante in servizio nella zona. Il suo compito è controllare le proprietà di coloro che si avvalgono di servizi di videosorveglianza. L'uomo prova a mettersi in contatto con Matteo Cagnoni per informarlo della situazione, ma lui non risponde. Prova poi a chiamare Giulia, ma il cellulare risulta spento. Infine telefona sul numero fisso della casa di Firenze. A rispondere è la madre di Matteo. Il vigilante le spiega che la polizia è alle porte della villa disabitata nel centro di Ravenna e sta cercando di accedere. Questo è tutto ciò che sa. Dopo questa scoperta, Matteo Cagnoni compie delle mosse a dir poco sospette. Chiama una sua ex dicendole che il giorno dopo non possono incontrarsi come previsto, perché è accaduto un grosso guaio. Secondo voi, di che guaio sta parlando? Il vigilante non aveva riferito informazioni dettagliate. Poi Matteo manda un messaggio alla segretaria, a Giorgia Borghesi, chiedendole di disdire tutti i suoi appuntamenti programmati per il giorno seguente. Perché è successa una tragedia? A cosa si sta riferendo? Nel frattempo, gli inquirenti di Firenze, che sono in contatto con quelli di Ravenna, si recano nella villa dei genitori di Matteo, in via Bolognese. È tardi, l'orologio segna mezzanotte e mezza, quando i poliziotti suonano al campanello. Hanno appena visto Mario Cagnoni, il padre di Matteo, svoltare con la sua macchina dietro la villa, per poi parcheggiare l'auto con il muso in avanti. Ad aprire la porta è la madre di Matteo Cagnoni, ma suo figlio non è in casa. Ha fatto appena in tempo a fuggire come un ladro, catapultandosi da una finestra sul retro della casa. Tuttavia, sua madre ha mentito agli inquirenti, dicendo che il figlio è in casa. Loro dunque lo stanno cercando in vano. Poi, quando l'orologio segna l'una di notte, ecco che arriva un messaggio terribile. A Ravenna, un cadavere è stato ritrovato. Gli agenti continuano a perlustrare la casa e trovano tre bambini chiusi in una stanza. Come spiega la madre di Matteo in risposta alla domanda della vicequestore, sono i figli di Matteo e Giulia. La vicequestore dunque le chiede che cosa ci facciano lì e la donna risponde in modo sconsiderato. Dice che i bambini si trovano a casa dei nonni perché la loro mamma era stata uccisa tre giorni prima nella villa di Ravenna. Ad ammazzarla era stato un ladro albanese. Il padre di Matteo interviene, urlando alla moglie di stare zitta, e si origina un battibecco a dir poco assurdo. La vicequestore a questo punto si gela perché il messaggio ricevuto dagli inquirenti di Ravenna, che informava sul ritrovamento di un cadavere, lei l'ha ricevuto davvero poco tempo prima. La madre di Matteo Cagnoni invece sapeva già della morte di Giulia? La vicequestore chiede alla donna come mai la notizia non sia ancora stata diffusa in televisione, e la signora ribatte che l'accaduto risale a pochi giorni prima. Di sicuro ne avrebbero parlato presto. Intanto gli inquirenti, perquisendo la casa di Firenze, hanno individuato degli elementi parecchio sospetti. Dentro una giacca disposta sull'appendi abiti viene trovato il passaporto di Matteo Cagnoni e 1530 euro in contanti. Nella sua camera spiccano anche i passaporti dei figli adagiati sul letto e la finestra aperta, indizi che lasciano pochi dubbi agli investigatori. La madre affermava che Matteo si trovava in casa perché fino a poco tempo prima era lì davvero, ma poi era scappato dalla finestra. Vi sottolineo che questa tesi viene confermata anche dall'impianto di videosorveglianza. Una volta diramate le ricerche, Matteo Cagnoni viene identificato a circa 3 chilometri dalla villa. Il poliziotto che lo insegue gli intima di fermarsi. Continua a inseguirlo, ma alla fine Matteo riesce a seminarlo saltando sugli argini del fiume Mugnone. La vicequestore mette la zona sotto controllo e quando Matteo riappare nei pressi della villa dei suoi alle 6 del mattino, il fuggitivo viene arrestato. Con Matteo Cagnoni assicurato alla giustizia, non resta che solidificare l'accusa, mettendo insieme le prove già trovate e raccogliendone di nuove. L'atto più importante è, indubbiamente, l'accesso alla scena del delitto. Una scena che parla, cioè in grado di rivelare da sola cosa era successo a Giulia. Quindi, cos'era accaduto a Ravenna? Perché gli inquirenti di Firenze hanno saputo soltanto del rinvenimento di un cadavere senza poter apprendere dati più specifici? Ebbene, quando gli inquirenti erano riusciti ad accedere alla villa disabitata di Ravenna, il sostituto procuratore aveva chiesto in via preventiva l'intervento della polizia scientifica, mettendo quindi in conto che quella poteva essere la scena di un crimine. Una volta arrivata la scientifica, era iniziato il controllo partendo dai locali più in alto per poi scendere verso lo scantinato. Di primo acchito non sembravano fossero indizi di un omicidio né al primo piano né al pian terreno. Poi, grazie alla luce delle torce e a un controllo più accurato, erano state individuate delle tracce di sangue. Erano state pulite in modo grossolano. Dunque si presentavano come diversi aloni sparsi sul pavimento della scala. Sulle pareti c'erano degli schizzi, così come su dei quadri appesi sul ballatoio. Le tracce portavano proprio verso la cantina. Gli inquirenti erano ridiscesi lungo le scale, fino a trovare una donna senza vita, in posizione supina. In realtà il riconoscimento non era stato immediato. Il corpo era nudo, la schiena incollata al pavimento della cantina, sopra una trappola per topi e il viso. Il viso era completamente sfigurato. Chi aveva ucciso la donna si era particolarmente accanito sulla faccia, tanto che la vittima aveva perso due denti. Un incisivo si trovava sul pavimento vicino alle scale, mentre l'altro le era rimasto conficcato nella gola. Dunque lei lo aveva perso quando era ancora capace di diglutire, quindi cosciente. A questo punto bisogna tentare di ricostruire i movimenti della vittima e dell'assassino. I primi colpi assestati tramite un corpo contundente le erano stati inferti sul ballatoio della casa. L'assassino l'aveva trascinata per i piedi lungo la scalinata, dunque la donna aveva sbattuto la fronte molte volte, gradino dopo gradino. Era stata trasportata in salone, poi giù per le scale della cantina. Nonostante i colpi sferrati, la vittima non era morta subito. Sul pavimento c'erano le tracce dei suoi piedi nudi insanguinati. Aveva trovato la morte nel momento in cui l'assassino le aveva preso la testa e l'aveva sbattuta contro il muro, lasciandola a terra agonizzante. In una delle camere che si affacciano sul ballatoio, viene repertato un pezzo di legno, più precisamente una porzione di ramo di pino, la cui superficie è completamente macchiata di sangue. Sangue compatibile con quello di Giulia Ballestri. Il medico legale sottolinea che il primo colpo subito da Giulia l'aveva tramortita e aveva fatto schizzare del sangue sui muri. Da questo momento Matteo si era messo a sedere e non appena notava che Giulia si stava riprendendo, tornava a colpirla. Così, per 45 minuti. Intanto gli investigatori ricostruiscono i movimenti di Giulia la mattina di venerdì 16 settembre. Lei e Matteo, che vivevano ancora insieme, avevano accompagnato i figli per il primo giorno di scuola. Poi si erano fermati in un bar per fare colazione. Giulia ovviamente sperava di poter parlare del divorzio, ma Matteo, con la scusa di mostrarle dei nuovi quadri pregiati, l'aveva attirata nella casa disabitata di Ravenna. Una volta lì Matteo l'aveva colpita con il pezzo di pino che, come viene stabilito, proveniva dalla legnaia della casa di Firenze, perché su di esso viene trovato non soltanto il DNA di Matteo, ma anche quello di suo padre Mario. I colpi, come detto, erano stati scagliati quasi del tutto sul viso di Giulia. Matteo, fuori di sé, sembrava volesse sfigurarlo, annientarlo, cancellarlo. Questo è anche il fine degli aggressori che colpiscono al volto le proprie vittime usando l'acido. Le deturpano, le trasformano come se volessero far sparire il viso della donna da cui sono ossessionati dalla faccia della terra. In effetti, verrà stabilito che anche Matteo Cagnoni ragionava in questi termini, ossia tu cancelli me dalla tua vita col divorzio e io ti elimino in modo definitivo. Matteo, dopo il delitto, aveva provato a ripulire la casa dal sangue e aveva trascinato Giulia fino in cantina con l'intenzione di nasconderla per poi chiudere l'abitazione e allontanarsi da Ravenna. Sperava che avrebbero trovato il cadavere molto più tardi. Ignorava che ripulire in modo scrupoloso una scena del crimine non è semplice e che Illuminol avrebbe reso vani i suoi sforzi di occultare le tracce. Tuttavia, rinunciando a eliminare quelle macchie di sangue che si presentavano in gran quantità, era tornato in cantina, aveva spogliato Giulia, e gli aveva lasciato il segno scoperto come ultimo gesto di sfregio. Poi aveva portato via i suoi vestiti che non saranno mai ritrovati e due cuscini sporche di sangue che saranno rinvenuti nella casa a Firenze. Viene inoltre trovata una torcia sporca di sangue proprio nella sua automobile. È chiaro che Matteo non è un criminale professionista. Infatti, nonostante il delitto sia stato premeditato, ha commesso degli errori che per lui si rivelano fatali. Un'impronta della mano di Cagnoni sporca del sangue di Giulia viene rilevata su un frigo presente in cantina. Per di più, una telecamera a circuito chiuso, collocata sull'edificio della Guardia di Finanza, che si trova proprio accanto alla villa del delitto, riprende una Mercedes nera classe A in orari compatibili con l'omicidio di Giulia. Si tratta della seconda auto di Matteo Cagnoni. Si notano prima due sagome che escono dalla macchina e si dirigono verso l'entrata della villa, ma poi a uscire dall'abitazione e a risalire nell'auto è soltanto una figura, quella di Matteo Cagnoni. Dopo l'omicidio, Matteo era andato a prendere i figli a scuola e con loro si era diretto verso la casa dei suoi genitori, a Firenze. Ad aggravare ancora di più la posizione di Matteo Cagnoni sono alcune intercettazioni telefoniche, da cui Aimee si capisce che i suoi genitori sono convinti che lui abbia ucciso Giulia. A questo proposito si rendono insopportabili le scusanti che i genitori dell'omicida pronunciano incautamente. L'ha uccisa la moglie, ma solo perché era in uno stato mentale alterato a causa della sofferenza che Giulia gli stava procurando, cercando di rovinare la sua famiglia. Più precisamente, Vanna, la madre di Matteo, parlando con un'amica di famiglia, pronuncia esattamente queste frasi. Diciamo che l'ha fatta grossa, ma ha vissuto un trauma talmente grosso per la distruzione della sua famiglia che non ci ha visto più. L'hanno pagata tutti e due. Nonostante tutte le evidenze emersi in ciò che vi ho raccontato, Matteo Cagnoni, davanti al Jeep, ha il coraggio di dichiararsi completamente innocente. Tira in ballo la storia dei ladri albanesi che stavano tenendo d'occhio la casa col fine di rubare alcuni quadri al suo interno. A IPM, Matteo racconta che quella mattina aveva portato i figli a scuola insieme a Giulia. Poi erano andati a fare colazione in un bar. Dopodiché erano entrati nella villa dove lui voleva mostrarle dei quadri da far valutare per definirne il valore. Dopo una mattinata trascorsa a fotografare questi quadri antichi l'uomo aveva lasciato la villa ma Giulia, sostiene sempre l'imputato, era rimasta a Gironzolane in giardino per poi varcare un'uscita secondaria. Cagnoni afferma addirittura di averla incontrata successivamente a mezzogiorno sotto casa e in quell'occasione le aveva chiesto di accodarsi a lui e ai figli per andare a Firenze ma lei si era rifiutata. Matteo racconta di essere andato a prendere i bambini e di essere partito per Firenze. Davanti agli occhi del giudice finiscono poi quei messaggi che Matteo aveva inviato quando aveva saputo della presenza dei poliziotti nella casa disabitata di Ravenna. Se ricordate aveva parlato di un grosso guaio e di una tragedia. Ma come poteva esserne al corrente prima ancora della scoperta del cadavere? Erano bastate le poche informazioni fornite dal vigilante per fargli intuire che il cadavere di sua moglie era stato ritrovato. Quindi la tragedia rappresentava proprio la morte di Giulia mentre il grosso guaio era ciò che stava accadendo nella villa. La perquisizione messa in atto dalla polizia. Matteo Cagnoni viene accusato di omicidio premeditato aggravato dal rapporto di coniugio e dalla crudeltà. La pena richiesta dalla Procura della Repubblica nei suoi confronti è l'ergastolo mentre la difesa chiede la soluzione sostenendo che è innocente. Cagnoni a questo punto prende parole in aula e dichiara Voglio esprimere qualche considerazione mai emessa nel processo sul mio rapporto con Giulia. Ho sentito di rimando una frase che avrebbe rappresentato il nostro rapporto che non trova invece assolutamente una corrispondenza ossia lo schema taci e si bella. È una cosa che non mi appartiene non è mai stato così nel corso del matrimonio né durante le crisi. Giulia l'ho conosciuta prima come paziente quando era affetta da un'acne severa su tutto il viso e non ne aveva ancora percepito la bellezza ma che avesse qualcosa dentro di speciale sì. Poi l'ho guarita e ci siamo iniziati a frequentare. Ciò che mi ha colpito subito tantissimo di lei è stata la sua semplicità la sua simpatia e la sua capacità veloce di battuta caratteristica quasi maschile. Mi sono reso conto che in sua compagnia mi divertivo come se fossi con un amico e che quando non ero con lei il mondo si ingrigiva. Nel periodo felice lei diceva sempre una frase che ho stampato in mente io e te siamo perfetti dove non arrivi tu arrivo io e dove non arrivo io arrivi tu. Nella lettera che mi mandò a San Valentino 2012 mi scrisse ti amo sempre di più e c'è qualcuno che invece insinua che non mi abbia mai amato. Io a Giulia chiedevo tutto pareri sulle persone che lei percepiva prima di me consigli sul mio lavoro mi fidavo della sua parola. Stavo bene con lei più che con chiunque altro e uscire una sera senza di lei significava per me sprecare una serata poi non trovavo giusto lasciarla sola con i bambini. È sempre stata il mio baricentro esistenziale una mia amica venuta a trovarmi in carcere qualche giorno fa mi ha detto ti ho trovato sereno è così perché so di essere innocente non ho mai pensato neanche per un secondo di uccidere Giulia e poi ho tre figli che hanno bisogno di me e hanno un trauma spaventoso addosso che dire se fossi stata in aula e avessi assistito a questa dichiarazione di Cagnoni probabilmente gli avrei tirato una ciabatta qua avrei cercato di mirarlo qua io ve lo dico il 22 giugno del 2018 la corte d'assise del tribunale di Ravenna dopo oltre 5 ore di camera di consiglio ha deciso di fronte a un'aula gremita la condanna all'ergastolo per Matteo Cagnoni la sentenza viene confermata anche dalla Cassazione ho finito di parlare di questo caso quindi ora vorrei condividere con voi alcune considerazioni non bisogna mai smettere di discutere i casi di femminicidio sono tutti spaventosi e ingiusti e di certo quello di Giulia Ballestri lo è particolarmente una ferita accusata dall'ego del marito manipolatore le è costata un numero imprecisato di ferite brutali che l'hanno condotta a una morte straziante ancora una volta ci troviamo a riflettere su una vicenda dove l'uomo dei sogni quello che decanta amore e valori degni di rispetto si trasforma in un mostro capace di rendere la vita della sua donna un incubo fino ad annientarla ancora una volta una donna per aver mostrato la legittima volontà di essere libera nelle sue scelte e nei suoi sentimenti viene ammazzata ferocemente da colui che l'ha portata all'altare dal padre dei suoi figli bambini costretti a crescere senza di lei per mano del genitore una vita stroncata un amore contaminato dall'ossessione la cui fine si è impressa in una macchia di sangue io ve lo dico non smetterò di affrontare questi casi con la speranza che ogni donna riceva il massimo supporto quando si trova ad affrontare la presenza ingannevole minacciosa e letale dell'uomo che le sta accanto a questo punto voglio sapere quali sono le vostre opinioni conoscevate questo caso insomma fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti